Il metodo è quello della giustizia fei da te. Non hanno pensato minimamente di rivolgersi alle forze dell'ordine, hanno deciso di vendicarsi da soli del torto subito, ossia il furto di due paie di forbici elettriche da potatura. E così due agricoltori di Ribera di 23 e 34 anni sono stati arrestati per sequestro di persona. La singolare vicenda è scaturita dunque dal furto degli attrezzi agricoli del valore di alcune centinaia di euro, furto del quale per i due braccianti agricoli si sarebbe reso protagonista un trentenne romeno domiciliato a Ribera. I due riberesi hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo e dopo averlo malmenato e minacciato con un coltello lo hanno prelevato con la forza e costretto a salire a bordo di un'auto. Azione punitiva che non è passata inosservata. Alcuni passanti si sono insospettiti e hanno telefonato al 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri. Nel giro di pochi minuti sono arrivate due pattuglie della tenenza di Ribera che dopo aver setacciato l'intero quartiere sono riuscite a intercettare e bloccare dopo un breve inseguimento l'auto sulla quale si trovavano i due sequestratori e il romeno. A quel punto sono stati portati tutti in caserma dove sono stati ascoltati anche alcuni testimoni e ricostruita la vicenda. I carabinieri della tenenza di Ribera hanno anche effettuato delle perquisizioni che hanno consentito di trovare e sequestrare il coltello utilizzato per le minacce, mentre a casa del romeno sono state rimenute le forbici elettriche che avevano generato la spedizione punitiva. Il romeno è stato denunciato per ricettazione, mentre i due brucianti agricoli riberesi devono ora rispondere del reato di sequestro di persona. Al momento sono agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un'indagine lampo, quella dei carabinieri della tenenza di Ribera, che evidenziano però come determinante sia stato il contributo dei cittadini, sia per la telefonata al 112, sia per le testimonianze rese in caserma. Grazie a tutti.